Come al solito, buongiorno Radio Macello Trip! Oggi non andiamo da nessuna parte, oggi restiamo qua perché sta per arrivare una cosa molto importante qui, a casa, direttamente a casa. Qualcosa ci entra in cappellino, che direte, boh, onda ce l'hai su sempre. E invece no, quest'onda qua oggi arriverà un'onda particolare, state all'occhio. State all'occhio, mangiamo qualcosa. Oggi è un momento storico. Vi lascio al prossimo video. Ci vediamo tra poco! Questi momenti qua in cui tu, quella sitza, aspetti, sai già che sta arrivando quello che hai preso. Sai già che sta arrivando. E tu sei lì tutto agitato. Questi sono i momenti migliori. Arrivata! Arrivata! Ciao! Scusa, è il momento di immortalare che... Piccolina lei! Bang! Grazie per la disponibilità, per la velocità e per aver trovato finalmente... Facciamo sempre il possibile per accontentare i clienti. Grazie mille, veramente. Grazie a te. Guarda, guarda che mi stai tremando la mano. Non ci credo, è un sogno che si realizza. Prima Speedbike CFRF 110 2021 italiana. Prima in assoluto. Madonna ragazzi, sono emozionatissimo. Adesso la spacchettiamo, facciamo due foto fuori. Facciamo uno shooting come si deve. 3, 2, 1, musica! Grazie a tutti. Va bene, ci vediamo dopo in moto. Giù, appena esco da qua. Metto il casco, ci vedo e andiamo. Dai, ciao! Ciao, sono sempre io. Ci siamo vestiti in modo tecnico. Adesso magari togliamo le ciabatte e mettiamo le scarpe tecniche per andare in pit. Chiavi di casa ce li abbiamo. La mascherina stoccata. Direi che possiamo partire. Perché ho preso questa moto? Da quando ho iniziato con le pit, ormai sarà più di 15 anni fa. Parca tra le stesse sono vecchio. Il sogno di sempre è stato avere un CRF 50 all'epoca. Adesso ve lo metto qua. Arrivati ad oggi, in America sta spopolando questa moto qua. Quindi, siccome la scimmia per le pit non mi è mai passata, ho provato a farla passare, ma non è mai passata. Siccome si sta rimpolpando un po' la scena in Italia, soprattutto qua al nord, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso CRF 110 F 2021. E torneremo alle gare quest'anno. Ci saranno un sacco di video di pit. Ne avete visti un po' anche ultimamente. E sto iniziando anche a pensare che sto iniziando a parlare da solo. E ci stiamo alla grande. Oddio. Al pedo. Al pedissimo. C'è gente giù, naturalmente. Eh, questa è la nuova. Per passare io non ti dico neanche cosa ci vuole. Tipo, devi essere... Ah, devi dimonarti il tenere un attimo. Tutto in castro qua, ragazzi. Abbiamo fatto benzina, abbiamo sparso benzina in giro ovunque. Prima accensione, accendiamo da cavalletto, guarda. Allora, togli qua. Accendi qua. E via. E viva, fa un rumore da catalitica. C'è il minimo automatico, non ci posso credere. Siamo avanti anni di luce rispetto alle prime pit. First slide. Madonna, quanto gioco c'ha sto. Sto acceleratore c'è un botto di gioco. Andiamo. C'è la penne così. Il freno davanti non frena niente. Ma niente proprio. Manubrio strettissimo. Qua c'è un botto di gente come al solito. Tutto albiate viene qua. Sospensioni. Freni. Tutto da rivedere. Ok. Allora, direi che il mezzo è abbastanza ignorante. Con una facilità estrema. Madonna, cosa tiene? Sa che quest'anno vinciamo il campionato. Dichiarazioni forti. No, vabbè raga, ma si fanno i salti. Madonna, le sospensioni sono già a pacco. Sto male. Eh, va anche comunque. Io ormai vado in giro di Heagal così. 14 anni, figa. Si impenna ovunque. Poi fai così. E si spegne. No, ragazzi. Io non ci posso credere. Ci vediamo su in casa col CRF 110 F 2021. BAM! Ragazzi, mancato il trip. Voglio mettere queste pedane sul CRF. Che sono un po' più larghe, un po' più comode. Per il mio 46 e mezzo, direi che va bene. Io voglio fare il bordo. Le vigarro. Col dreamer. Tutto così. Per renderlo argento. E tenere nero solo qua dentro perché non sbatte incredibile da fare. E non è che c'è questa gran voglia. Ci vediamo alla fine. Buongiorno, buongiorno. Sì, abbiamo la musica sotto. Ci toglieranno la monetizzazione. Ma noi di monetizzazione non ce ne facciamo niente. Stiamo andando avanti col montaggio di quello che abbiamo naturalmente in casa. Perché in tutto questo naturalmente mi sono beccato pure il Covid. E sto benissimo, ragazzi. State sereni. Però devo stare in casa. Quindi abbiamo recuperato pedane. Nell'altra, l'abbiamo di internato. Come dicevo, già nel video precedente. Manubrio abbiamo recuperato l'altra manubrio da pit per alzarlo decisamente. Leva a freno posteriore. E adesso quello che andremo a fare oggi è andare a cercare. Siccome abbiamo il comando gas che non ci arriva. Dobbiamo assolutamente trovare una strategia per far passare il comando gas che è qua. Invece che da qua sotto, qua sopra. E farlo passare qua. In mezzo qua. Per recuperare quei 5 cm che ci sono, che mancano. Ce la faremo? Non ce la faremo? Non lo so. Adesso vediamo. Mi stavo quasi dimenticando di far vedere il risultato finale. Allora, non sono per niente soddisfatto. Infatti, ho già ordinato tutti i pezzi da TB Bolts USA. Perché così non va bene. Così non va bene perché abbiamo il comando gas che è tutto piegato in avanti. Cioè dovrebbe stare qua, in realtà è qua. L'eva a freno è giù così, che devi frenare all'ingiù. E non va bene. Il cavo dell'eva a freno è tirato, ma non più di tanto, però un pelo più lungo servirebbe. Il comando gas è tiratissimo, se giro da una parte non va bene. Attendiamo i pezzi dall'America e poi montiamo tutto. Tutto, ho preso tutto. I componenti nuovi sono arrivati. La moto è completa. Andiamo a fare un giro nel boschetto. E poi vi spiego bene cosa abbiamo montato e com'è la situazione finale del Cielo e Fino 110. La maschera è bella marcia. Ah, di qua, di qua, di qua. Tutto in piedi sulle pedane. Ma forse dovrebbe andare su di qua, sai? Andiamo su di qua. Qua gradini addirittura. Prima di andare a vedere di là com'è la situazione. Tronchi. Di qua dove si va. Madonna mia! Che difficoltà qua in mezzo. Ma ce la facciamo. E' buona! E' questa era il giro nel boschetto. Ora ci fermiamo qua un attimo e vi spiego un po' che cosa abbiamo fatto da pit. Allora, la prima cosa forse la più evidente è la marmitta. Una QB Series direttamente dall'America. E' una specie di FMF un po' camuffata. Costo sui 500 dollari, più o meno. Pedane maggiorate le avete già viste. Freno posteriore maggiorato le avete già visto. Cosa più evidente sono le gomme nuove. Gomme. Abbiamo preso delle Dunlop. Dietro abbiamo una 80-112. E davanti abbiamo invece una 60-114. Camere d'aria rinforzate. Quelle originali di serie sono di un millimetro e mezzo. Queste qua sono da tre millimetri. In più abbiamo fermacopertone anteriore e posteriore. Perché abbiamo visto dopo la prima uscita che la camera d'aria si storceva all'interno del cerchio. Quindi fermacopertone obbligatorio. Grafiche nuove, naturalmente, come potete vedere. Grazie a Monky Graphics. La roba più importante in assoluto che abbiamo fatto è kit, VBR, forcelle e mono posteriore. Mono posteriore abbiamo anche avuto la molla. Una molla molto più dura. Adesso sembra di avere un pezzo di legno nel culo. All'anteriore, tutto l'interno abbiamo cambiato tutto. VBR ci ha fornito il kit suo di forche. Siamo andati dal nostro amico WS Suspension, che avete già visto il video. Se non l'avete visto ve lo metto nel link in descrizione. I cerchi. Parliamo un attimo di cerchi. I cerchi questi qua sono originali. Non sono un granché. Si piegano molto facilmente. Per ora la usiamo così. Sono arrivati finalmente cavo gas, cavo freno anteriore VBR. È arrivata la piastra VBR per aumentare un po' l'altezza del manubrio, perché essendo 1,90 su sta pit qua la vedo un po' dura. Manca ancora filtro uni. Dentro abbiamo un filtro pacchissimo. Paramotore VBR sotto. Abbiamo un parapignone della JTI americano. E qua sotto, non so se riuscite a vederlo, il proteggi leva del cambio. È una cagata, che costa 10 dollari. Però è fondamentale, perché ho visto un sacco di CRF110 col perno del cambio completamente piegato, perché toccan per terra, si storce e via dicendo. Perché esce molto dalla sede nel motore e quindi è molto fragile. Dovremmo evitare ogni problema di piegamento, anche perché è una rottura di cazzo. Per cambiare questo perno che costa sui 20 dollari, devi aprire tutto il motore e la mano d'opera si fa sentire. Abbiamo messo delle protezioni tipo skate. Carta vetrata da skate qua, per grippare un po' di più. Ma magari facciamo un lavoro fatto un po' meglio. Forcelle un po' sfilate, perché con il kit nuovo si sono alzate molto. Abbiamo cambiato anche il comando gas, ma solo da parte qua. Perché il comando gas qua, onda originale, era perfetto. E non mi sembrava il caso di cambiare tutto un comando gas quando va benissimo. Quindi abbiamo preso il pezzo in plastica che faceva BBR più lungo. Nel senso che quello originale è da bambino, quindi arriva qua. Ci stanno due dita mie. Questo qua invece, come potete vedere, tutta la mano ci sta tranquillamente. Per ora a me la seda sembra buona, nonostante sia un po' ricurva. Altra cosa da fare in futuro, assolutamente, cambiare il cantilever. Il cantilever, come vedete, è un onda originale. Lo fanno dal 2016, identico per il CRF 110. Si piegano come reader, queste cose qua. Quindi BBR ha un cantilever che magari vedete qua adesso, a destra, a sinistra, a qualche parte. Molto più resistente. Solo che costa un pochino, quindi aspettiamo un attimo a comprarlo. Motore, non tocchiamo nulla, ma nulla proprio. Ho visto già che ci sono dei kit 138 per andare a pomparlo, eccetera, a destra, a sinistra. Per ora non ce n'è bisogno, per ora non ce n'è veramente bisogno. La pit è perfetta così, siamo stra contenti di come sta venendo ed è una figata. Io vi ricordo, se volete altri video sulla pit, di scriverlo nei commenti, nei commentate. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così vedete i video quando escono ogni volta. Quindi niente ragazzi, da Travis e la campagna di Albiate CRF 110 è tutto. Al prossimo video, solo gas. Grazie a tutti.